A partire dalla prossima legislatura i consiglieri della Regione Puglia saranno 50 anziché 70, oltre al Presidente della Giunta Regionale. È passata all'unanimità in Consiglio Regionale la modifica statutaria che riduce il numero dei consiglieri. Inoltre, dalla prossima legislatura potranno essere nominati i componenti della Giunta Regionale solo i consiglieri regionali eletti e non potranno esserci più di due assessori esterni. In totale, dunque, gli assessori saranno 10. Non siamo mai stati meno casta di oggi, ha commentato dopo l'approvazione il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Onofrio Introna. Quella approvata oggi è una delle riforme più importanti della Regione Puglia, che va nell'interesse dei pugliesi e della buona politica. La Puglia è la prima regione italiana ad adeguarsi. Era nel nostro programma elettorale dalle regionali 2010 e lo invochiamo da tempo come indispensabile segnale di sobrietà e rigore nei confronti dei cittadini, ha dichiarato il capogruppo del PDL alla Regione Puglia, Rocco Palese.